A un certo punto c'era di mezzo l'elezione del Presidente Repubblico e quindi arrivati a un certo punto il Presidente Repubblico aveva più condizioni di mandare avanti la pratica e bisognava aspettare un nuovo appuntamento. Ma Bersani abbiamo fatto uno spottino, abbiamo fatto uno spotto, Bersani facciamo una cosa insieme, noi abbiamo dato indietro 42 milioni, dai indietro i tuoi 48 cazzo di milioni, basta fare una segna, non si è sentito. E certo, davanti a una novità come qua nel momento 5 Stelle, è chiaro che il tentativo di vedere se ci fosse un minimo di chiave di discussione, mica se io volevo fare l'alleanza con Grillo, non mi sono mica amato. Portiamo insieme la legge di incandidabilità del nano, insieme, non l'ha sentito, perché la vogliono tenere lì, perché se volevano mandare lì al nano bastava votare Rodotà e con Rodotà sarebbe andato in violenza. Non votare! 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 Grazie a tutti